Ci rifai la domanda? Allora, cominciamo le tue condizioni fisiche, come stai? Io sto bene adesso, ho avuto questo infortunio, ho fatto i primi dicembre, ho avuto una distorsione alla caviglia, doveva essere curata presto, invece è stata curata male, l'ho tirata avanti fino ai primi gennaio, ancora non potevo allenarmi, però adesso sono due settimane che già sto bene, non ho più problemi. Senti, una nuova avventura a Catanzaro, immagino anche stimolante, come mai hai deciso di venire a Catanzaro, cosa ti è mancato magari a Carrara, insomma quello che non ha funzionato lì a Carrara? No, non è mancato niente a Carrara, però avevo questa mezza idea magari di andarmene via, al fine lì ho giocato, comunque mi sono trovato bene, però avevo questa idea di andarmene, ho sentito il direttore, la proposta era perfetta, insomma Catanzaro si sa, è diventata una piazza importante, il tifo è importante, la società è stabile, una squadra competitiva, quindi insomma era tutto perfetto prima di qua. Senti, parlaci un po' di te, che caratteristiche che hai, dove dipende di giocare di più, comunque nel modo utilizzato dal mister, comunque con la difesa a tre? Ma io sono difessore centrale, posso adattarmi terzo di difesa o terzino, comunque tutta la difesa, ho sempre fatto praticamente tutti i ruoli, e niente, caratteristiche sono quelle che è gioco fisico, gioco di testa, e vabbè, queste principalmente sono le caratteristiche che ho. Ora arriva questa partita di Lecce, come va affrontata secondo te, quali possono essere le vostre qualità da mettere in campo in una partita comunque proibitiva sulla carta, ma che penso il Catanzaro vada lì per ottenere un risultato positivo? Ma è quello, praticamente tutte le partite andiamo per vincere, ho visto ormai, sono qua da poco, ma la mentalità è questa, quella di essere competitivi e andare a vincere tutte le partite, quindi basta avere la testa giusta, allenarsi bene settimana, andiamo là che siamo più che pronti insomma. Che impressione ne hai ricavate dal Catanzaro, dai tuoi compagni, dal gruppo, da quel poco che hai visto, insomma sei qua da poco, però che impressione ne hai ricavate? L'impressione è positiva, i compagni mi hanno aiutato fin dall'inizio, sapevano la mia condizione fisica, però sono tutti disponibili, dallo staff, ai compagni di squadra, quindi mi sono trovato molto bene. E tra tutti gli stati tecnici, hai visto giocare la squadra domenica scorsa, dimmi un po' che cosa ne pensi? No, penso bene, la partita è andata bene, ho visto un bel gioco, la squadra sa come muoversi, i movimenti, poi il gioco che vuole il mister è un bel gioco di, oltre che tattico, anche fisico, di corse, quindi direi che giocando così si va molto avanti insomma. Tu conosci questo girone, l'hai già fatto con me, se non ricordo male, sai che è un girone particolarmente complicato, molto agonisticamente, molto spinto, in cui ci sono grandi squadre, una di queste rincontrerete domenica prossima, dove credi possa arrivare questo Catanzaro così come è strutturato in questa stagione? Della domanda di prima che mi hai detto perché ho scelto Catanzaro, soprattutto anche per questo girone, perché comunque un girone è bello, è bello da fare, forse è il migliore tra quelli che ci sono, per le piazze che ci sono, e quindi le squadre sono forti, sono competitive, il Catanzaro penso che di questo passo può arrivare molto in alto. La tua formula contrattuale è tale per cui l'anno prossimo ti dovrai meritare una riconferma, se non sbaglio, c'è un'opzione per il prossimo anno, no? No, io sono in prestito dell'Atalanta, sì, ho fatto sei mesi. Prestito ma prestito secco? Prestito, prestito, sì, poi vediamo come va, insomma, se mi trovo bene tutto quanto posso pensare anche di rimanere, insomma. Cioè, insomma, in questi cinque mesi quindi ti giochi molto, immagino? Eh, mi gioco abbastanza, sì, sì, speriamo vada bene. Va bene, grazie. E' un posto.